Ciao a tutti, sono Cristian Preciutti. Penso che in questo momento di difficoltà dobbiamo scendere in basca tutti insieme. Quindi anch'io ho deciso di donare il mio zaino, Milane Brescia, autografato da me, lo dono all'associazione Cristiano Tosi e ci direi che il ricavato andasse all'ospedale per l'ambulanza di Brescia. Ci conto.